Il professor Alberto Bagnai, in veste di candidato della Lega, poi ci dirà anche in quali collegi. Volentieri, buongiorno. Buongiorno, lei è candidato, è qua nella veste di candidato. C'è stato un tentativo, diciamo così, un piccolo blitz, un tentativo di Berlusconi di far entrare anche l'EMA nella campagna elettorale dicendo se sarò io al governo l'EMA tornerà in Italia, è stato subito stoppato dal sindaco di Milano Beppe Sala. Al di là di questo tentativo subito rientrato, lei come vede questa vicenda? Intanto la ringrazio per l'invito, è la prima volta che ci vediamo, che ci troviamo in compresenza in studio, come prima abbiamo notato e lei ha notato che abbiamo iniziato in orario, quindi adesso nella campagna di demonizzazione del movimento cui appartengo si dirà che quando c'era Bagnai Omnibus arrivava in orario, perché noi ormai siamo dipinti come dei pericolosi fascisti. No, vengo sul punto. Dunque, il tema sostanzialmente del lema, scusi la rima involontaria, non mi appassiona tantissimo nei suoi risvolti di campagna elettorale. In generale non mi appassiona l'uso elettorale dei temi, questo dovrei dirlo, forse non sono ancora abbastanza un politico. Mi preme invece rilevare alcuni aspetti di struttura, perché fra Lavia e Gualtieri, entrambi esponenti insomma delle istituzioni europee, mi è sembrato di cogliere una diversa interpretazione di quello che sia successo a livello istituzionale su questa vicenda, perché Lavia ha detto che il Consiglio ha deciso e il Parlamento deve vidimare, mentre Gualtieri ha dato una visione più articolata del processo legislativo europeo, quella in cui il Consiglio e il Parlamento, ha detto, sono colegislatori. Ora, io sono nuovo della politica e non ho certo l'esperienza che possono avere queste due persone che dentro le istituzioni ci sono state. Quello che però la letteratura scientifica evidenzia è che fra i tanti aspetti che lasciano un po' perplessi circa l'architettura europea, c'è proprio quello di un Parlamento che in realtà tanta iniziativa legislativa non ce l'ha. Immaginiamoci che dire che il Consiglio e il Parlamento sono colegislatori, se lo caliamo nella realtà istituzione italiana, sarebbe come dire che il Presidente della Repubblica e il Parlamento sono colegislatori. Questo ci suonerebbe strano. Quindi bisognerebbe un attimo riflettere su che tipo di architettura istituzionale abbiamo in mente. Poi Lavia ha detto una cosa che a me sembra profondamente corretta, anche se forse i toni ci dovrebbero in qualche modo far riflettere. Cioè lui ha detto sostanzialmente che gli olandesi hanno mistificato in qualche modo la realtà, hanno presentato una realtà della loro proposta diversa da quella che poi si è rivelata. Al di là del fatto, diciamo così, che noi dovremmo essere tutti fratelli in questa meravigliosa Europa che ci ha dato 70 anni di pace e che invece ci fa litigare anche su sta roba qui, c'è un dato. Io concordo in realtà nella sostanza con quello che dice lei, perché dobbiamo sapere che il comportamento dell'Olanda è sempre estremamente opportunistico, perché l'Olanda, essendo un paese dell'ex area del Marco ed essendo quindi spalleggiata dalla potenza egemone, si permette di violare una quantità di regole europee. Per esempio, quando lo si può dire in televisione, si ricorda, come per esempio sulla 7, apro e chiudo una parentesi per ringraziarvi per il fatto che siete l'unica rete che in qualche modo mi consente di esprimermi, non solo in campagna elettorale, ma in sette anni di dibattito. Quando si parla della Germania si dice, ah ma la Germania viola la regola del surplus estero, cosa che sappiamo tutti, mercantilista, cattiva, brutta, eccetera, eccetera. Vabbè, questo se ne può discutere, ma nessuno ricorda mai che in Olanda il rapporto fra surplus estero e PIL è ancora più grande, si avvicina alle due cifre. Quindi in qualche modo l'Olanda si rivela come una potenza estremamente opportunistica nell'ambito delle relazioni europee. Certo, e qui chiudo, io non sono, essendo così, di inclinazione liberale in quanto Keynesiano, spero che questo non suoni un paradosso, Keynes si definiva un liberale, io non sono pregiudizialmente ostile a chi si fa i fatti propri, a chi cure i propri interessi, a chi cure il proprio, scusate, sto per dire una parolaccia, sempre quando c'è interesse nazionale, come l'Olanda fa. Ho qualche perplessità quando un paese, perché non è solo un problema di classe dirigente, è un problema di italiani in generale, che però adesso stanno cambiando orientamento, pensa di non dover curare il proprio interesse nazionale in nome di un interesse superiore. Perché questo interesse superiore poi, quando si esplica, regolarmente ci penalizza e quindi dovremmo chiederci perché lo vogliamo tutelare. Parleremo di Juncker che è entrato nella campagna elettorale italiana e poi c'è anche subito uscito perché ha fatto marcia indietro dicendo che è stato frainteso come spesso accade, giusto o no che l'Europa metta bocca nelle singole campagne. Spesso e volentieri quello che dice Juncker si trasforma nel suo esatto contrario, purtroppo o per fortuna, quindi anche questa volta Juncker non c'ha zecca. Ci sono tantissime considerazioni da fare. Io inizio quando ho finito il tempo, lei entrerà a gamba tesa e mi fermerà. Intanto questa ossessione per la governabilità mi fa un po' sorridere perché in questo momento abbiamo la potenza egemone dell'Unione Europea, la Germania che è tuttora senza un governo e con probabilità abbastanza scarse di arrivare a una quadra, abbiamo avuto Spagna, Belgio eccetera eccetera senza governo per più di lunghissimi. Non si capisce perché solo la governabilità dell'Italia possa essere più un problema. In generale non si capisce perché questa costruzione politica sovranazionale che dicono che ci abbia dato la pace e dicono che ci dovrebbe dare stabilità tremi e si esponga con gaff di questo tipo ogni qual volta in un paese gli elettori decidono di accostarsi alle urne. Il fatto che l'elettore si accosti alle urne fa tremare l'Europa e fa tremare i mercati. Questo ci dicono i grandi titoli dei giornali. Qui secondo me c'è un problema e il problema adesso mi riallaccio a cose che sono state dette prima, circa la costruzione e la sua fragilità. Noi abbiamo usato, qualcuno ha usato nella parte precedente, molto il termine dovrebbe, per esempio l'Europa dovrebbe avere una politica industriale e perché nei trattati non c'è oppure l'Italia dovrebbe farsi sentire di più in Europa e perché non ci riesce. Cioè siamo ancora a quello che Alfredo Dattorre chiamava o forse chiama ancora, non lo so, l'europeismo del dovere essere, dovrebbe, dovrebbe, dovrebbe. La politica però si fa con i fatti e con i rapporti di forza, non con i più desideri. Un esempio, parlavamo di Juncker. Dunque Juncker, posso anche essere d'accordo, credo senz'altro Roberto Gualtieri che nella parte più interessante della trasmissione, che è quella che non vedono i telespettatori, mi faceva notare come in effetti fosse un politico consumato, dotato di capacità di mediazione, che è riuscito a tenere botta dopo la Brexit, d'accordo su tutto. Però Juncker è anche il primo ministro del Lussemburgo che ha gestito, diciamo così, il rapporto con le multinazionali in un certo modo, trasformando quel paese in una sorta di paradiso fiscale. Ci sono anche degli scandali. Questo mi riporta a una cosa detta da Goldstein, che molto diplomaticamente e civilmente ha fatto notare che l'Olanda all'Unilever ha fatto delle proposte concrete, però non ci ha detto quali. Ora io, che sono un po' malizioso, posso pensare che ci sia una competizione fiscale da parte dell'Irlanda, scusatemi, dell'Olanda rispetto ai suoi competitor. Quindi questo ci porta poi su un tema che è una delle nostre proposte, ovvero quella di ridurre il carico fiscale. Ma il punto fondamentale però è che questa costruzione è fragile perché non si vanno ad armonizzare i fondamentali. E questo lo vediamo su altri casi di cui poi forse parleremo, no? Cioè il fatto che ci siano diverse politiche del mercato del lavoro, diverse politiche fiscali, fragilizza la costruzione e quando poi un paese decide di andare a votare, la costruzione che è fragile trema, da cui i vari, diciamo così, timori e tremori di Juncker che poi rientrano. Questo però è deprecabile secondo me, perché tradisce questo modo di interferire nei processi politici nazionali. È veramente molto inopportuno. C'è l'alternativa tra Schulz e Merkel in Italia, c'è l'alternativa tra Gentiloni e la flat tax, tra Gentiloni e Di Maio. Questo, dobbiamo saperlo, preoccupa un po' tutti nel mondo. Poi se è opportuno che lo dicano o non lo dicano, questo è un altro discorso, ma noi lo dobbiamo sapere. Su l'hashtag Omnibus la 7. Posso dire una cosa? L'alternativa tra Schulz e Merkel non c'è neanche in Germania, perché il tentativo di grosse coalizioni sta sbriciolando il partito socialdemocratico, che sta facendo la fine dei suoi confratelli in tutta Europa. Chiediamoci perché. Io penso che sia del tutto legittimo per Juncker intervenire. Di nuovo, non ha detto, sono preoccupato che vinca Caio o che vinca Sempronio, ha detto, sono preoccupato che ci sia una situazione di instabilità politica in un paese che rappresenta comunque il 15% del PIB dell'Eurozona. Ma non c'era il pilota automatico? Allora, che gliene importa a lui del governo? No? Si ricorda di quando Draghi disse chi se ne importa di chi vince le elezioni nel 2013 con questo atteggiamento sprezzante da kingmaker di ogni singolo Stato? Ma come lei sa, c'è tanto che gli italiani faranno quello che ho detto io nella lettera del 2011. La centrale europea, tante volte, la Commissione ha messo in evidenza ma non penso che ci sia un'incoerenza. C'è una importanza delle politiche strutturali che dipendono in parte, non completamente, ma dipendono da decisioni degli stati, dei governi, dei parlamenti. E' certo che l'uscita è unito. Posso fare due esempi concreti. Nelle prossime settimane e mesi si decidono due cose molto importanti. Il bilancio europeo dei prossimi sette anni si chiama quadro finanziario multiannuale. E ci sono due fronti. Il fronte di alcuni paesi, cioè anche l'Olanda, che lo vuole ridurre ulteriormente. E un altro fronte in cui dice no, costruiamo delle risorse proprie europee, aumentiamo il bilancio e dobbiamo l'Europa di strumenti per avere più occupazione, più crescita, più coesione sociale. Ti deciderà nei prossimi mesi. Da che parte sta l'Italia? Certo, se uno vede, legge le dichiarazioni di Brunetta o di Salvini e pensa che potrebbero governare loro, si preoccupa dal punto di vista della capacità dell'Europa di affrontare i grandi problemi dei cittadini. Ma se i mercati hanno paura di noi, possiamo dispensarci dall'aver paura di loro. Posso intervenire? Significa che i cittadini ancora possono esprimersi. Lo Stato italiano ha una spesa pubblica intorno a 880 miliardi di euro l'anno. Il bilancio dell'Europa è 132 miliardi di euro. Pensate quanto è poco. Eppure con questo si fa la politica della ricerca, si fa la politica agricola, si fa la politica della coesione, si fa quel poco di politica di integrazione. Si sostengono ovviamente i paesi più poveri nel mondo con 132 miliardi. E allora io sono uno di quelli che dice dobbiamo rafforzare il bilancio europeo. Sostengo la posizione italiana perché dobbiamo avere più politiche in comune. Dobbiamo guardare al futuro con un approccio europeo. Ovviamente integrando anche le politiche fiscali perché non possiamo pensare che qualcuno si vada a nascondere nei paesi dove si pagano meno imposte. Quindi un approccio fiscale comune alla prospettiva europea ci deve essere. Sono d'accordo al 100% con Giovanni. Il problema è che non è candidato lui per quello schieramento. È candidato il professor Bagnai che la pensava. Qui c'è ancora la possibilità. Mi permette Finucci, questa celeste rispondenza di amorosi sensi fra Gualtieri e Lavia si spiega in un modo molto semplice. Sono in un lecito conflitto di interessi da uomini delle istituzioni europee e vogliono rafforzare le istituzioni europee. Vogliono che le istituzioni europee abbiano più risorse. Il problema è che però queste risorse vengono dalle tasche degli italiani. E' questo punto. Non c'è un destino alternativo all'Europa. Questo sarebbe l'alleanza che deve governare. Non c'è un destino alternativo. Questo lo diceva la signora Tassi. Noi siamo una coalizione di diversi partiti e quindi interpretiamo il rapporto con l'Europa in modo dialettico. Dopodiché vediamo quello che succede. Scusate, vorrei farvi vedere questo tweet e poi vorrei chiedere a Thomas Miglierina di commentarcelo. Questo è un tweet del 26 maggio del 2016. Il allora capo di gabinetto di Juncker che si chiama Martin Selmayr scrisse il 26 maggio del 2016 il G7 italiano a Tormina con Trump, Le Pen, Boris Johnson, Beppe Grillo uno scenario dell'orrore che mostra bene perché valga la pena di combattere il populismo. Allora Selmayr ci acchiappò a metà perché Trump e Boris Johnson sono stati eletti Le Pen no, Beppe Grillo 5 Stelle ovvero vedremo. Selmayr due giorni fa ha lasciato l'incarico di capo di gabinetto del Presidente della Commissione ed è diventato segretario generale della Commissione Europea rimpiazzando un tizio che si chiama Italianer che è un olandese che aveva avuto il dossier dell'EMA. Thomas ci racconti un po' chi è Selmayr? Io l'ho chiamato in un tweet il Darth Vader della Commissione Europea lui ci gioca pensando al cattivo di Guerre Stellari ma non al numero uno che come sappiamo è l'imperatore ma al numero due il comandante supremo. Martin Selmayr è entrato alla Commissione Europea nel 2004 era portavoce della commissaria Redding commissaria lussemburghese ha scalato tutto il gabinetto è arrivato rapidamente fino ai massimi piani della Commissione è stato direttore della campagna di Juncker quando questi si è presentato come Spitzenkandidat come candidato di lista del Partito Popolare Europeo nel 2014 e poi ha preso appunto il posto di capo di gabinetto qualcuno è arrivato a dire che era il vero Presidente della Commissione è qualcuno di esservamente è tedesco figlio di un ex consigliere di un Presidente della Repubblica Tedesca ha 48 anni è uno staccanovista è estremamente competente nelle sue nelle questioni europee ed è come parlare con il granito insomma lo conosco da un po' di tempo perché ovviamente si occupava di stampa è qualcuno di estremamente convinto delle sue opinioni e quindi non facile come persona da avere in una contesta dove invece prevale la mediazione il discorso ora lascia sì il gabinetto di Juncker ma rimane in un posto importantissimo perché il Segretario Generale è in pratica il capo della macchina che supporta il lavoro del Collegio dei Commissari se facesse campagna elettorale in Italia gli direbbero che è un pericoloso estremista come dicono a me no ma insomma non mi sembra un tema così rilevante in effetti la fa e nessuno si dice che è un pericoloso estremista però facciamo capire ai nostri telespettatori anche un po' di corridoi di quello che accade a Bruxelles che è importante allora è molto importante anche perché c'è un tema che è quello del fatto che le istituzioni europee nei loro punti chiave sono pesantemente gemmonizzati dalla Germania che ha avuto l'intelligenza di mettere appunto in queste posizioni espressioni fondamentalmente poi del suo partito conservatore e i risultati si vedono questa è una cosa che fra l'altro preoccupa un po' anche la Francia e dovrebbe preoccupare molto di più noi se la commissione da tecnica se in generale le istituzioni europee si politicizzano perché vedete qua il discorso dell'Europa che si preoccupa perché l'Italia non verrà più guidata da chi l'ha rafforzata è un discorso che secondo me non tiene tanto cioè dobbiamo renderci conto che in Europa ci sono nostri fratelli da sempre ma anche i nostri concorrenti da sempre perché questi concorrenti dovrebbero essere così lieti del fatto che qualcuno rafforza l'Italia secondo me le cose sono un po' diverse cioè in realtà quello che preoccupa che preoccupa l'Europa è proprio che l'Italia cominci a diciamo così decidere di fare il proprio interesse in modo un pochino più autorevole questo mi sembra un ragionamento un po' più sensato poi giudicheranno gli ascoltatori e soprattutto gli elettori Stamattina Luca Fornovo sulla stampa di Torino ha intervistato il ministro dell'economia Paduan il quale ha detto se il nuovo governo italiano dovesse introdurre la flat tax i conti pubblici sarebbero a rischio e sarebbero sarebbe un pericolo per il paese e i mercati cambierebbero in fretta umore vorrei sentire Bagnai Paduan dice se il prossimo governo mette la flat tax succederà Armageddon che ne pensa? Ma io penso che forse dovremmo smettere di gestire l'economia del ventunesimo secolo con le categorie del diciannovesimo allora chi è stato il grande so che sta per fare freddo ma questa storia delle coperture è un po' ridicola chi è stato così bravo nell'assicurare le coperture e nel riportarci dentro i parametri europei Mario Monti qual è stato l'impatto delle politiche di Monti sul rapporto debito-pil lo ha fatto aumentare di 13 punti perché perché ha distrutto talmente tanto reddito che il rapporto è aumentato allora questa storia delle coperture va vista in un modo diverso io personalmente sono un economista keynesiano e mi dispiace di aver dovuto aderire alla Lega per applicare un'economia diciamo del ventesimo secolo ai nostri problemi d'accordo? L'economia adesso ti dico anche questo le dico anche questo o ti dico insomma tanto ci conosciamo litigate dandovi del tutto litighiamo dandoci del voi allora e voi in questo periodo stia attento perché non è molto di moda lo so sto ironizzando su questa cosa allora vorrei far notare che prima è stata data l'idea di un PD che ha salvato il paese e è giusto che un esponente del PD la veda così il punto però è che noi con la gestione della crisi tramite austerità non solo abbiamo dissestato la finanza pubblica nel senso che l'austerità nel senso l'effetto dei governi Berlusconi l'austerità no mi perdoni ecco Monti è stato visto dal PD e dei suoi elettori come la salvezza dell'Italia abbiamo cambiato politica in Europa con il governo Renzi ma insomma questo cambiamento è stato abbastanza poco percepito lo riconosco dopo di che dopo di che allora dopo di che allora se posso se posso venendo al tema che è il tema della flat tax mi fa un pochino specie che ci sia questo attacco strumentale è una cosa dei paesi arretrati l'Italia intanto purtroppo è arretrata grazie ai governi che sono attualmente in carica che hanno lasciato diciamo così dietro di sé una specie di deserto lei giustamente o tu Gualtieri puoi ovviamente dire il contrario però poi ogni elettore guarda il suo portafoglio e decide e per quel che riguarda tutte le tematiche che sento sollevare sull'iniquità sulla disuguaglianza diciamo due cose banali cosa banale numero uno l'unione monetaria costringe i paesi a fare competizione con la flessibilità al ribasso dei salari questo è il primo motore di disuguaglianza all'interno dell'unione monetaria e forse su questo dovremmo lavorare cosa banale numero due nella legge di bilancio del 2017 c'era non una flat tax peggio ancora una cosa ancora più regressiva una lump sum tax cioè una tassa in somma fissa di 100.000 euro per i ricchi stranieri che volessero venire a portare in Italia la residenza fiscale quanto ci abbia guadagnato lo Stato da questo non lo so però so solo una cosa io posso anche ammettere non lo ammetto ma per amore di argomento che noi vogliamo fare gli interessi dei ricchi italiani vedremo se sarà così intanto il PD ha fatto gli interessi dei ricchi esteri cioè qui c'è ancora una volta un problema di fare l'interesse nazionale versus l'interesse a persone che vengono da altri paesi allora io sarei un pochino diciamo così imposterei la cosa in termini pragmatici c'è un grossissimo problema di semplificazione fiscale e di ripristinare un rapporto più costruttivo fra l'amministrazione fiscale e il cittadino la proposta della Lega non può essere banalizzata come fate la flat tax come paesi del terzo mondo è una proposta che parla esplicitamente di semplificare il sistema fiscale che fra l'altro consente anche all'amministrazione di risparmiare ma certo guarda se vuoi mi taccio vedo che freme che consente consentirebbe anche all'amministrazione fiscale peraltro di risparmiare risorse abbiamo anche esperienze quando è stata messa la cedollare secca sugli affitti c'è stato un recupero di base imponibile quindi questo è un altro punto perché giustamente la via ricordava la lotta all'evasione ma parliamo anche del fatto che una flat tax consentirebbe un recupero di base imponibile in questo momento la priorità è la crescita è far ripartire l'economia non possiamo stare a parlare delle coperture noi abbiamo bisogno di crescere in deficit diciamocelo chiaramente perché solo la crescita rende il debito sostenibile continuare a tagliare quindi crescita zero nell'ipotesi che il debito diventi zero e poi invece cresce non funziona allora Gualtieri poi Goldstein nel frattempo ne approfitto per dire che ho postato sulla pagina facebook di Omnibus una vostra discussione durante la pubblicità così i nostri ascoltatori vedono che cosa accade ma io per quella non ho firmato la liberatoria lo so ma questa me ne assumo la responsabilità Gualtieri io comincio a sospettare che Bagnai in realtà non condivida la flat tax una persona onesta intellettualmente quindi un po' gira gira intorno ho ammirato gli sforzi sovrumani della via di difendere l'indifendibile ma la verità è una cosa molto semplice la via diamoci una mano veniamo calunniati il punto non è le coperture e io tra l'altro sono un chinesiano io non sono ovviamente lo stesso avviso Roberto e io sostengo il fatto che ci sia anche l'utilizzo del deficit per sostenere la crescione noi l'abbiamo fatto con la flessibilità naturalmente questo deve fare conti con i mercati che devono rinnovare il nostro debito pubblico quindi va fatto quello che Padoan chiama il sentiero stretto noi abbiamo cambiato le politiche dell'epoca Monti che ha applicato le regole votate da Berlusconi il fatto di stabilità e le abbiamo portate con la flessibilità a guadagnare spazio fiscale all'Italia per la crescere infatti da quando governiamo noi noi che è una cosa diversa dai governi precedenti la curva è ricominciata a salire ma cos'è la flat tax? è ripartita l'economia mondiale la flat tax è un'aliquota unica è un'aliquota unica che riduce le tasse a chi ha i redditi alti se si mette l'aliquota al 23% chi guadagna un milione di euro risparmia moltissimo centinaia di milioni di euro in tasse e chi guadagna i redditi medio-bassi pagano lo stesso cioè questa è la flat tax cioè io che Berlusconi sia così geniale da riuscire a ammaliare gli italiani a cominciare a fare ridurre le tasse a se stesso e poi questi soldi da dove si prendono? chi guadagna 23 milioni di redditi di euro non li guadagna con i redditi dalla loro riprende allora bagnai non diciamo i calciatori di Berlusconi bagnai non diciamo stucchezze la proposta del centro-destra dice di finanziare sono 50-60 miliardi su 730 di gettito fiscale che noi andiamo a togliere allo Stato e cosa dice? riprendiamo 40-50 leggo il programma del centro-destra 40-54 miliardi dalle agevolazioni fiscali cosa sono le agevolazioni fiscali? glielo spiego subito il fatto che quando si compra la prima casa per esempio il bollo e il registro costino di meno il fatto che il biglietto dell'autobus costi invece che 5 euro un euro e mezzo gli 80 euro ai redditi medio-bassi l'IMU sulla prima casa e tante altre cose che sono appunto i benefici fiscali per i redditi medio-bassi quindi cosa propone il centro-destra? di privare il bilancio dello Stato e quindi i servizi pubblici che beneficiano tutti i cittadini di 50-60 miliardi l'anno per ridurre le tasse a chi guadagna tanto questa è una follia dal punto di vista economico e distributivo indipendentemente dal fatto che non ci sono le coperture che quindi produrrebbe una crisi del debito pubblico con un spread più alto tutto quello che sappiamo ma è proprio dal punto di vista distributivo è una cosa che infatti nessun grande paese civile in Olanda non c'è la flat tax in Germania non c'è la flat tax in Svezia non c'è la flat tax in Francia non c'è la flat tax nei paesi dove le persone stanno bene non c'è la flat tax perché qual è l'effetto della flat tax che se una persona che guadagna di reddito dipendente 500 mila euro l'anno risparmia 100-200 mila euro di tasse poi però un cittadino normale quando si ammala gli chiedono la carta di credito quando deve andare a pronto soccorso all'ambulanza questo è l'effetto e trasformare la società italiana da una società civile che si colloca nei paesi più avanzati a spostarla nell'Europa dell'Est o nel Sud America questo è la flat tax e io ritengo che tu che con qualche imbarazzo o la via possono senza arrossire senza arrossire difendere un abominio come la flat tax senza arrossire e questo lo trovo cerchiamo dell'elettoramento non onesto perché tutti sanno scusate tutti sanno che la flat tax è una follia e che quindi l'alternativa è che o non si farà e quindi è un'ennesima promessa di Berlusconi o se si farà o se si farà o se si farà porterà l'Italia da dove è il centro dell'Europa all'Europa dell'Est Gualtieri Bagnai vi siete invitati allora era ora l'economista cerco di no dove stai anche io flat tax sì o no serve o no prima della pubblicità io non penso che serva soprattutto perché c'è già ma cosa dice la progressività delle imposte come garantia dalla Costituzione di Berlusconi io non penso che la flat tax sia la soluzione c'è un problema ovviamente di coerenza del sistema di imposizione in Italia è un problema che viene da molto prima della nascita di questo governo del governo che potrebbe arrivare che non riuscirà comunque a risolvere il problema semplicemente attivando una flat tax i paesi come diceva l'onorevo Gualtieri che hanno la flat tax sono i paesi che cercano di concorrere sulla base del costo del lavoro del costo della produzione l'Italia deve fare uno sforzo per migliorare la qualità della sua produzione delle sue risorse umane dei fattori di produzione e questo sì è quello che si può fare con delle politiche strutturali per la competitività detto questo è ovvio che in Italia la pressione fiscale è troppo alta ma è alta in linea non è più alta che la media dei paesi dell'Ox c'è un patto sociale in Italia come in tanti altri paesi europei che fa sì che la fiscalità generale serva per coprire i servizi sociali se vogliamo cambiare questo patto sociale bisogna essere espliciti quindi da questo punto di vista noi non vogliamo cambiare questo però allora c'è un problema di compatibilità di compatibilità a finanziamento prevalentemente pubblico più diffusa sul territorio in ognuno dei collegi dove sto facendo campagna vengono chiusi dalle inizioni regionali del PD ospedali vengono da Veda dove c'è un'ambulanza per 50 mila persone e l'ospedale più vicino è a due ore di macchina questi sono i problemi concreti che i cittadini sentono capisce? le centinaia di operai dell'embraco che rischiano di perdere o ahimè stanno perdendo il lavoro per una delocalizzazione i problemi dell'embraco non nascono dalla cassa integrazione nascono evidentemente da un comportamento anticoncorrenziale dal punto di vista di altri paesi membri dell'Unione Europea proprio per questa ragione il governo negli ultimi giorni come sapete si è mosso e continua a farlo per ottenere da parte della Commissione un'applicazione rigorosa dei criteri sugli aiuti di Stato che impediscono agli altri paesi di utilizzare fondi soprattutto se fondi europei per fare concorrenza sleale eccoci qua per l'ultimo blocco di Omnibus parliamo di una vicenda tremendamente seria vale a dire un'azienda di proprietà brasiliana in Piemonte che ha deciso di localizzare e di lasciare a casa centinaia di persone che se la stanno passando davvero male il ministro Calenda è andato a Bruxelles si è lamentato col commissario europeo alla concorrenza Margarete Vestager che ha detto farà delle verifiche per capire se la Slovacchia ha utilizzato dei fondi strutturali europei quindi soldi di tutti noi in sostanza per scippare questa azienda una vicenda diciamo molto triste esplosa in campagna elettorale ma non per questo meno grave adesso noi dobbiamo arrivare soprattutto in paesi che hanno la stessa moneta perché la Slovacchia è nell'euro quindi Magnai non potrà dire che utilizza la svalutazione del cambio per farci concorrenza ma utilizza quella salariale appunto che ci siano salari diversi non impedisce non impedisce a paesi come appunto la Germania la Svezia di avere salari alti essere forti e competitivi si chiama ciclo del prodotto e quando un prodotto diventa desueto si innova e si produce cose più produttive e quindi questo come si vede l'euro non c'entra nulla naturalmente però se si utilizza se si utilizzano infatti ho fatto l'esempio di un paese dell'euro e non dell'euro allora il signor Alessandro Bonafede sulla pagina Facebook di Omnibus dice guardate che non è la prima impresa straniera la Embraco in Italia che si trasferisce nei paesi dell'est ce ne sono state anche di più grandi e nessuno ha mai fatto niente niente questo era Twitter dove invece va per la maggiore il dualismo tra Gualtieri e Bagnai posso dire allora intanto qua c'è un problema generale perché si è aperto all'est perché la Germania faceva in comodo un bacino di mano d'opera a buon mercato vicino a lei purtroppo a noi fa scomodo e adesso si vede secondo punto noi delocalizziamo quando non c'è alta tecnologia faccio esempi la Brioni di Penne la Honeywell di Atessa l'ansaldo di Pistoia che non ha delocalizzato ma altri suoi problemi l'Ilea Standard di Roccasecca tutte aziende che fanno profitti che vengono definite fiori all'occhiello per quello ma poi stranamente chissà perché a un certo punto le cose vanno in crisi e qui c'è un punto fondamentale un progetto di sviluppo responsabile di un paese non può basarsi principalmente sulla flusso di capitale estero noi abbiamo sentito dire tutti quelli che sono più grandi che l'Italia doveva essere più attraente per i capitali esteri essere attraente per i capitali esteri lo significa che arriva il capitali estero si fa i fatti suoi si fa i suoi profitti e poi se ne va perché è il mercato unico che glielo consente quindi dobbiamo ripensare la sartenenza al mercato unico in un modo autarchia non l'autarchia ma neanche l'accesso di un'attoria di un'attoria di un'attoria grazie a Bagnai grazie a Gualtieri grazie a Goldstein grazie alla via grazie a Thomas Millerina grazie a tutti l'appuntamento è col TG delle 13 e 30 con quello delle 20 e ci vediamo domattina ad Omnibus sempre alle 8 per commentare quello che accadrà oggi in Italia a Milano a Palermo e in altre città con le manifestazioni antifasciste restate con noi domattina che a Milano